Buongiorno e ben trovati con i giornalini edicola l'appuntamento quotidiano con la nostra rassegna stampa oggi sulle prime pagine delle maggiori testate italiane troviamo l'emergenza migranti che sta rendendo difficile la vita all'isola di Lampedusa l'hot spot pensato per ospitare 400 persone ne ospita oltre 7 mila e c'è una situazione di allarme di emergenza tante le richieste di aiuto da da parte appunto del sindaco di Lampedusa ma anche dello stesso parroco che con i suoi volontari sta dando una mano a chi gestisce l'hot spot e ci sono difficoltà per le forze dell'ordine a mantenere calma e ordine pubblico appunto una situazione che secondo il vicepremiere ministro delle infrastrutture leader leghista Matteo Salvini è dovuta ad una regia criminale che sta spingendo alla invasione dell'Italia parole dure che sono state diciamo in qualche maniera calmierate dalle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni che ieri ospite di una trasmissione televisiva ha definito fondamentale non gestire ricollocamenti ma fermare appunto le partenze e i flussi dopo che anche l'accordo con la Tunisia si è dimostrato fallimentare questo arriva all'indomani della decisione di Francia e Germania di bloccare gli automatismi previsti dall'accordo di Berlì di Dublino scusate un accordo che prevede il ricollocamento dei migranti questo ricollocamento automatico è stato stoppato dalla Germania mentre la Francia ha aumentato i controlli al confine con l'Italia un'emergenza su cui è intervenuta anche l'organizzazione delle Nazioni Unite che chiede all'Unione Europea di aiutare l'Italia un'Unione Europea che ieri ha vissuto l'ultimo discorso sullo Stato dell'Unione da parte della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen che a sorpresa ha annunciato di aver investito Draghi il ruolo importante quello di creare una relazione sulla competitività dello Stato quindi dell'Unione è definito Draghi come tra le migliori menti economiche dell'Unione Europea tutto questo mentre in Siberia si è vissuto l'incontro tra Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un che ha definito l'Ucraina il male da combattere ha promesso a Mosca aiuti in termini di missili e munizioni in realtà secondo l'intelligence di Kiev queste armi sono già in possesso delle truppe russe da oltre un mese nella giornata in cui ieri gli ucraini hanno distrutto mezzi militari in nella parte della Crimea occupata dalla Russia sempre per la politica internazionale e tornando sull'economia la stretta della BCE sugli extra profitti una decisione che per il governo italiano è stata fondamentale che invece per la banca centrale europea è molto rischiosa specie per i piccoli istituti bancari e poi la cronaca in Italia con l'ennesimo incidente sui luoghi di lavoro questa volta a Casalbordino in Abruzzo tre operai sono morti in una ditta che si occupa di polvere da sparo e sono stati appunto investiti da una esplosione la stessa ditta che nel 2020 fu chiusa dopo un altro incidente dello stesso tipo per sette mesi questi sono i fatti più importanti che troviamo sulle prime pagine dei giornali che cominciamo a sfogliare insieme partendo come sempre dal Corriere della Sera sbarchi e tensioni a Lampedusa in 7000 nell'hotspot proteste e carica delle forze dell'ordine un bimbo di cinque mesi annega durante le operazioni di soccorso perché ieri un altro barchino era stato visto a largo di Lampedusa e molti tra cui i cittadini di Lampedusa si sono buttati in mare per aiutarli ma non c'è stato nulla da fare per questo neonato è stato recuperato cadavere Meloni lo stop di Berlino e migranti vanno fermati prima l'ONU l'Unione Europea condivida gli sforzi la fotonotizia è dedicata ad una poetessa che si chiama Victoria Melin ed è stata citata ieri da Ursula von der Leyen lei aveva messo a sicuro i suoi bambini per tornare in Ucraina e testimoniare i massacri e le violenze dei russi è stata uccisa durante un ride aereo era in un ristorante che di solito è frequentato appunto da militari e volontari a a centro pagina lo scoppio in fabbrica morti altri tre operai chiedi una tragedia analoga nel 2020 e appunto è l'azienda di Casal Bordino di taglio laterale per quanto riguarda la politica estera alleanze militari e sogni spaziali Putin brinda e a ruola Kim l'incontro appunto tra Kim Jong-un e il leader del cremelino Putin poi Libia il dramma e 20.000 vittime quanto accaduto appunto nel paese libico con la diga che ha rotto gli argini e ha creato una alluvione 20.000 appunto sono le vittime poi la premier avrà un occhio di riguardo e del commento di Giorgia Meloni alla chiamata europea di Draghi è un aiuto per il futuro è il virgolettato quella di Ursula von der Leyen Draghi avrà il compito di elaborare una strategia per difendere la competitività europea e poi lo dicevamo gli extra profitti i paletti della banca centrale europea che boccia la tassa sugli extra profitti ma c'è già la risposta di Palazzo Chigi non ci saranno retromarce ma soltanto dei ritocchi al provvedimento e poi Gratteri il magistrato Antin Drangheta che è il nuovo procuratore capo di Napoli e ci sono state non soltanto polemiche ma il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura si è spaccato sulla sua nomina soltanto 19 i voti a suo favore c'è stata anche una polemica perché qualche tempo fa parlando della procura di Napoli che ricordiamo la più grande d'Italia e ha un maggior numero di magistrati aveva parlato di magistrati lavativi che arrivano al lavoro alle 10 e mezza e aveva ipotizzato se io dovessi diventare mai capo di quella procura le otto e mezza bisogna essere al lavoro dimenticandosi in caso ovviamente di necessità anche delle giornate festive vedremo che cosa farà una volta che si insedierà. Andiamo a vedere Repubblica il ritorno di Draghi nel suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione von der Leyen ruola l'ex premier con un incarico sulla competitività dell'Unione Europea. Il commento di Giorgia Meloni avrà un occhio di riguardo per noi e attacca Gentiloni e critico e non collaborativo. Questa è l'ennesima polemica che si crea tra Palazzo Chigi e il commissario alla concorrenza europea appunto Paolo Gentiloni che aveva mosso delle critiche sulla fase di stallo sulla gestione dei fondi del PNRR innescando la polemica appunto capitanata dalla premier che aveva accusato il commissario europeo di remare contro l'Italia e le parole di ieri definendo Gentiloni non collaborativo lo ribadiscono. Poi sulla nomina di Draghi c'è il gelo di Salvini e del Movimento 5 Stelle. La BCE boccia la tassa sulle banche non va usata perché fa perdere di credibilità. Il giornale diretto da Maurizio Molinari oggi ha un retroscena che riguarda Manfred Weber che è responsabile del PPE e che molto probabilmente archivierà questa possibile alleanza in vista delle europee del prossimo anno tra le destre e il partito popolare europeo per lanciare Ursula Bis. La maggioranza Ursula lo sapete l'avevamo al momento della sua appunto elezione una maggioranza molto trasversale. E poi la manovra per fare cassa pronti a giocarsi la carta dei condoni. Il ministro Giorgetti ieri in aula ha parlato della necessità di non rinnovare il super bonus che ha creato un buco di bilancio notevole scatenando ovviamente l'ira delle opposizioni ma soprattutto del Movimento 5 Stelle che di quel provvedimento è il papà. In alto sempre Mappamondi, vertice Putin-Chim, i due dittatori brindano ai missili per la lotta sacra. Nel frattempo lo sapete a Pechino è arrivato l'inviato in missione di pace del Papa. Il cardinale Zuppi, presidente della CEI, incontrerà il responsabile per conto di Xi Jinping dei problemi euroasiatici. A centropagine invece l'apocalisse di Lampedusa, 7 mila migranti nell'hotspot e lo stato di emergenza è cariche delle forze dell'ordine per la situazione che sta diventando particolarmente pesante. Di taglio basso l'esplosione con i morti nella fabbrica maledetta ed è quello che è successo a Casa Al Bordino ma poi ci sono le storie con l'inizio dell'anno scolastico a Caivano con le voci degli alunni raccolte da Dario Del Porto siamo stanchi di pistole e sirene. Lo sapete c'è stato il decreto Caivano dopo quella terribile storia di violenze sessuali nei confronti di due bambine di 10 e di 12 anni. L'inviato di Repubblica è andato proprio in questa scuola e ha raccolto lo sfogo di docenti e anche di alunni che sono stanchi di quanto accade nel Parco Verde. C'è stata quella maxi retata da parte delle forze dell'ordine la visita della premier Giorgia Meloni e di lì a qualche giorno la stesa come aveva denunciato Don Maurizio Patriciello. La stesa è quanto fa la criminalità organizzata per ristabilire il predominio sul territorio, questi colpi di arma da fuoco esplosi all'impazzata. Andiamo con la stampa a vedere qual è l'apertura scelta dal giornale diretto da Massimo Giannini. La vergogna di Lampedusa, oltre 7 mila migranti, scontri con la polizia, Meloni fermari, le partenze. Ed poi viene ripresa la dichiarazione di Matteo Salvini quanto accade un atto di guerra contro l'Italia. Tensione in Sicilia, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Europa aiuti l'Italia, Bruxelles, più accordi bilaterali, mentre il PD parla di fallimento dell'esecutivo e delle sue politiche migratorie. Poi la Premier insiste contro Gentiloni che non ci aiuta, la BCE non coprite il debito tassando le banche e la norma cambierà previsti alcuni ritocchi. E poi la competitività europea con Ursula von der Leyen che arruola Draghi. Anche la stampa è andata a Caivano con Valentina Petrini, il primo giorno di scuola nel Parco Verde. Qui non vogliamo più stare. In taglio alto però il giornale diretto da Massimo Giannini non dimentica quanto accaduto a Brandizzo a fine agosto con la morte di cinque perai travolti da un treno mentre erano a lavoro sui binari. Altri quattro indagati, tra loro c'è il titolare della Sigifer che è l'azienda per cui lavoravano le vittime. Sempre in prima la stampa riporta il quanto definito appunto il caso che riguarda la neo assunta al Senato, la Ossipova che ha il cui marito lavora per difesa e per Nato e questo sta creando polemiche perché per l'ex candidata di Fratelli d'Italia e del suo neo marito. Andiamo a vedere a venire come apre l'Unione Europea, cerca la spinta, Ursula von der Leyen punta sul Green Deal e chiama Draghi per rilanciare la competitività. La BCE boccia la tassa sulle banche e oggi decide se rialzare oppure no i tassi di interesse. Il taglio alto è dedicato all'emergenza a Lampedusa e poi allo scoppio in fabbrica con la morte di tre lavoratori dilaniati. In prima sul quotidiano dei Vescovi anche la guerra in Ucraina, il patto anti imperialista ed armato tra Putin e Kim Jong-un, zuppi a Pechino in cerca della pace. Andiamo a vedere invece il sole 24 ore che apre sulla manovra e l'addio al super bonus deficit nel 2023 verso l'aumento che va tra il 6,5 e il 7 per cento. Dal 2024 ritorno ai bonus senza sconti in fattura e cessione dei crediti. Giorgetti alla Camera, niente rinvii per i condomini ma controlli sui vecchi crediti. In taglio alto invece la prima giornata degli stati generali del 2023 della cultura spinta alla competitività del sistema Italia e il virgolettato di Tajani, il ministro degli esteri, uno strumento chiave anche per la diplomazia, promozione, parte integrante della politica estera. Poi la fotonotizia è dedicata all'automotive e a Stellantis che scalda i motori per la cessione dei robot Comau sulla linea di allestimento e c'è stato appunto il posizionamento del primo robot. Poi l'inflazione che negli Stati Uniti accelera nel mese di agosto a causa del caro benzina con i prezzi in salita. Il giornale di Confindustria però non dimentica i temi caldi che riguardano l'incarico dell'Unione Europea Draghi e le polemiche tra Meloni e Gentiloni e poi l'inchiesta antidumping sulle auto elettriche cinesi e riguarda appunto l'apertura di un'indagine sulle importazioni di queste auto fabbricate in Cina e poi Lampedusa al collasso con 7 mila sbarchi. Il messaggero Draghi con Fonderleien, Meloni una buona notizia, l'ex premier sarà consulente di Bruxelles per rilanciare nuove idee sulla competitività industriale europea. Accompagnano l'apertura, i contratti a tempo indeterminato che sono in aumento e le indagini Istat sul calo della disoccupazione. A centropagina i migranti, lo stato di emergenza Lampedusa, 7 mila arrivi in 48 ore, alta tensione sull'isola, cariche della finanza, nega un bimbo di cinque mesi e secondo Salvini si parla di fallimento dell'Unione Europea. Il governo poi accelera sui rimpatri. La fotonotizia è sui due leader che si sono incontrati in Siberia, Putin e Kim, patto su armi e satelliti, asse tra i due leader di Russia e Nord Corea, guerra agli imperialisti. Non dimentica il messaggero l'incidente sul lavoro a Casalbordino, la fabbrica maledetta, esplosione, tre morti come nel 2020 e la nuova tragedia nello stabilimento che tratta lo smaltimento della polvere da sparo. Il messaggero però imprima un'altra violenza, quella ancora una volta su una bambina stuprata a 14 anni e successo a Bolzano in mezzo alla folla alla festa del paese. Il messaggero ha anche lo sport e lo spettacolo con la spinta di Lucaco arrivato alla Roma, due gol in nazionali e Mu ora sorride, Mu e Murigno ovviamente è l'allenatore. E poi Emaneskin il premio di MTV e Damiano il bacio della cantante Taylor Swift. Il mattino Lampedusa è al collasso, lo stato di emergenza sull'isola dopo i 7.000 sbarchi, Salvini all'attacco dell'Europa. C'è alta tensione nell'hot spot con la morte anche di un bimbo di 5 mesi e il parroco definisce la situazione come l'apocalisse. Non d'Italia più alto rispetto alla scelta di Von Terleien di chiamare Draghi come consulente di Bruxelles, Gratteri che guiderà i PM di Napoli con il CSM diviso, la scelta dopo 15 mesi di interregno dal prelum voti anche per Volpe e Amato. Volpe è l'ex capo che ha gestito la procura in questo momento di indecisione e quindi è stata supplente alla guida della procura di Napoli. La premier su Caivano, le stese dei clan non potranno mai intimidirmi ed è quello che è accaduto al Parco Verde. Poi per la cronaca più locale il reclamo su Lissner che è stato reintegrato, insomma è stato chiesto, è stata fatta una lettera da parte del consiglio che gestisce il teatro napoletano al ministro per invece riavere Fuertes. Il resto del Carlino, lavoro nuova strage, sindacati basta, tre vittime in Abruzzo nella stessa fabbrica di smaltimento degli esplosivi. La fotonotizia all'apertura è dedicata allo stato di emergenza di Lampedusa, Salvini attacca l'Unione Europea mentre la premier è più cauta. Sul resto del Carlino però troviamo anche la tassa sulle banche ed il no della BCE con Meloni che tratta parità di gettito quindi che annuncia ritocchi alla tassa e poi abbiamo la scossa di terremoto che ieri ha spaventato le marche e il ritrovamento dopo un anno della tredicesima vittima dell'alluvione avvenuto nel settembre di un anno fa e il corpo era stato trovato a largo delle tremiti, si tratta di una donna e l'esame del DNA ha confermato che era lei, era fuggita in auto con la figlia per poi essere travolta dalla piena dell'alluvione. L'eco di Bergamo, l'apertura è sul ceto medio impoverito che bussa ai servizi sociali a Bergamo in due mesi oltre 300 richieste e pesano renditi bassi e anche rincari. La fotonotizia è sui trasporti sugli autisti introvabili fuori casa a 12 ore poco rispetto le polemiche appunto dei sindacati di categoria e poi la cronaca stretta sulla morte di una donna di 39 anni alla vigilia delle nozze. La provincia invece apre sui minori non accompagnati, sono 315 ed è como al collasso, numeri in continua crescita, mancano strutture e finanziamenti. L'emergenza comasca ormai da diverse settimane scrive il giornale sul tavolo del ministro dell'interno Piantedosi che durante la sua visita in prefettura a fine luglio aveva incontrato il sindaco rapinesi e il sottosegretario Nicola Molteni c'è qui infatti la foto. Di taglio alto invece servono 300 infermieri più posti all'università perché oggi ci sono i test d'ingresso e il Sant'Anna apre un bando per 130 assunzioni e poi i bus e i disagi per gli studenti con cancellazioni e ritardo alla ripresa delle lezioni. Poi una notizia strettamente locale, sgarbo dopo la fusione, ogiate, non si farà, non si fa. La sagra è la sagra di San Michele dedicata all'arcangelo che del nome all'antica chiesetta sul colle di Trevano. Dal 2006 la manifestazione imbandiva le tavolate con piatti tipici ma è stata annullata tra tanti interrogativi. La provincia di Sondrio apre con la crisi del settore alberghiero, altre due chiusure, è complicato andare avanti a Gualdera che era casa di Giorgetti, stop anche per il gembro a Sondrio, sono delle strutture turistiche conosciute che però chiudono a causa dei costi elevati e poi nuovi impianti di risalita a Madesimo costano troppo, la società appunto ci ripensa Schiarea e ci sono riunioni frenetiche per trovare la quadra in vista appunto dell'imminente stagione invernale e poi basket a Sondrio, il campetto si ferma, la seconda squadra cestistica del capoluogo alle spalle della sportiva basket. La provincia di Lecco invece l'accordo sulle stazioni sicure anche se i soldi non bastano, 30 mila euro per 27 comuni e le critiche del sindaco Gattinoni. Poi un incidente centrato dall'autocontromaneo ma va a processo per omicidio stradale quanto appunto è successo nel ottobre del 2022. Andiamo a sud con la Gazzetta del Mezzogiorno che titola con Draghi l'europeo l'Unione Europea le affide il rilancio economico. Meloni, buona notizia, De Caro sulle barricate per difendere il sud ed è dedicata a lui anche la vignetta perché De Caro ieri è intervenuto anche sulla gestione dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza lanciando l'allarme sulla possibilità che i fondi destinati al mezzogiorno vengano in realtà riciclati per opere previste al nord Italia. Poi cresce l'export italiano Macala in Puglia e ovviamente la centropagina il tragico mare o neonato annega a Lampedusa, Tremiti, l'ultimo corpo dell'alluvione quindi cioè sia quanto sta avvenendo in Sicilia e poi il recupero del corpo di Brunella. Chiù di spalla invece i pazienti non costretti al sesso con Miniello la Cassazione ribadisce no al carcere per il ginecologo finito al centro delle polemiche e ovviamente delle cronache per aver palpeggiato e avuto rapporti con le sue pazienti e poi la DIA fotografa il crimine da Foggia a Lecce così agisce la triade delle mafie pugliesi. L'edicola del Sud quattro anni di attesa per essere operato ed è il problema delle liste di attesa nel settore sanitario mentre a centropagina le fotonotizie sono sulla corte dei conti che bacchetta il consiglio regionale pugliese con un buco da 10 milioni e l'emergenza clochard nel capoluogo barese. Il quotidiano del Sud mercati, tassi, conti pubblici e prodotto interno lordo, la traversata del deserto italiano ed è l'editoriale di Roberto Napoletano sul pasticciaccio sulle banche che mette in dubbio il credito che il duo Meloni-Giorgetti ha accumulato agendo in continuità con la linea Draghi e va chiusa. Troppe figuracce secondo il direttore soprattutto perché abbiamo il debito più alto tra i paesi europei. Poi via liberal colossale elettrodotto sottomarino per le rinnovabili del Sud Terna investirà 3,7 miliardi e poi Nicola Gratteri designato procuratore di Napoli e la scelta che definita giusta dal giornale del CSM. E come sempre con il quotidiano del Sud si conclude il nostro appuntamento con la rassegna stampa. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata e vi lascio in compagnia dei programmi della rete.